Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della fonda perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scesi in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano, è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo alzato si disse al Signore, ecco Signore io do la metà di ciò che possiede ai poveri e se ho venguato qualcuno restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose, oggi per questa causa è venuto alla salvezza perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Questa lettura che è un fatto accaduto si accosta molto bene a questa lettura del libro dell'Apocalisse al capitolo 3 e a fare i versetti perché sono stati uniti, dove si parla alla chiesa di Sarbia, alla chiesa di Laodicea, specialmente la chiesa di Laodicea parla della falsa ricchezza e che è un po' l'oggetto della conversione di Zaccheo. Zaccheo, sappiamo, lo pubblicano, guadagnava, guadagnava bene sulla pelle, chiaramente dei concittadini, riscontendo le tasse. E però ha una conversione e nella conversione immediatamente lui capisce che il suo attaccamento al danano è la radice anche del suo peccato e quindi del suo allontanamento da Dio. Non così il cuore del suo profondo che, nonostante questo, sentiva la nostanzia. Per questo era interessato quello che Gesù diceva, per questo non cercava, cercava di vederlo, non immaginando ovviamente che lo stesso Dio, nella persona del figlio fatto uomo, avrebbe detto Zaccheo scendi perché oggi vengo a casa tua. Questo capire ovviamente di Dio il cuore e la profondità dell'uomo è ciò che crea i miracoli nella vita che poi diventano scelte concrete che sono solo corrispondenti a una corrispondenza viva a quello che si ha nel cuore, a quello che è accaduto e che solamente lo spirito può far accadere. E quindi questo rimprovero viene fatto alla chiesa di Laodicea e dice non sei né caldo né freddo, sei tiepido, io sto per vomitarti, ma io ti sto avvisando di questo perché Dio sfezza, colpisce, riprovera chi ama, altrimenti non c'era di andare in ruina, perché cerca lo suo ravvenimento, cerca un cambiamento, una conversione. E qui il tema diceva proprio quello dell'attaccamento alle ricchezze. Sei vestito con vesti e in realtà sei nudo, sei ricco ma in realtà sei un misero, quindi quello che tu consideri la preziosità della vita e la ricchezza delle cose è talmente falsa che non ti accorgi che sei mezzo morto, che sei lontano da me, che hai bisogno di essere recuperato da questa tua posizione. Allora, se nell'episodio concreto della conversione di Zaccheo è un cambiare rotta di una persona, qua l'avvertimento, insieme all'Apocalisse alle sette chiese dell'Asia, viene fatto alla chiesa intera nei suoi vari aspetti. La chiesa intera è fatta di chiese sorelle che stanno insieme, ogni diocesi è legata all'altra perché parte del corpo di Cristo, c'è questa immagine dei dodici apostoli che diranno delle chiese che sono nel mondo. L'avvertimento dell'Apocalisse alle sette chiese, di cui quella di Sarbi e l'Odissea sono la seconda e la terza perché la prima è quella di Efeso, rappresenta dunque degli aspetti in cui Dio va a colpire il cuore di chi era suo e si è allontanato. Come dice anche l'ultima frase dell'Ageo di Luca, anche Zaccheo è figlio di Abramo e figlio del uomo infatti è venuto a cercare di salvare ciò che l'ha perduto. Cioè la prima cosa che Gesù fa è di salvare quelli che hanno già un aggancio con Lui, perché se questi si allontanano hanno un debito di responsabilità completamente diverso rispetto a chi è dell'ignoranza con un rapporto stretto con Cristo. Noi direi che i battezzati che si sono allontanati hanno una responsabilità davanti a Dio che è molto diversa da quello che è un abitante della Mongolia o chissà quale altro paese dove il cristianesimo, penso che se c'è, è veramente qualcosa di infimo, ecco, nel numero per me, non c'è solo nella qualità. E dunque il riprovo viene fatto alle chiese. E il riprovo fatto nell'Apocalisse ha, come tutte le profezie, un aspetto immediato. Le profezie avvengono per un tempo vicino. Poi c'è un tempo intermedio, nel senso che le profezie tornano a essere vere perché quello che accade adesso diventa profetico e segno di quella che è la tendenza dell'uomo e che tende a ripetere. In più, la prospettiva finale delle profezie è quella che noi chiamiamo appunto apocalittica, cioè che riguarda gli ultimi tempi. Io vengo e vengo a riscontrare, vengo a chiedere conto, vengo a giudicarmi. Sulla base di quello che ho seminato, non sulla base di quello che non ho seminato, sul fatto che siamo delle reti tanti fedi che è passata nelle generazioni e che è stata data a voi, io vi chiedo conto dei frutti, che cosa c'è, che cosa state dando. Non sente freddo o ne caldo. Alla chiesa di Efeso dice, pensi di essere vivo invece sei morto. E' così anche l'Odicea, no? Siete in una situazione di morte, di lontananza da Dio. L'attaccamento alle amicchezze e l'allontanamento dalla parola di Dio che viene non ascoltata e anche cambiata. Quando è che si cambia la parola di Dio e la si rende morta? Perché come può la parola di Dio che Dio stesso morire? Così come abbiamo ucciso il Cristo sulla croce, noi possiamo uccidere la sua parola. Intanto annunciando senza la presenza dello Spirito, di quello Spirito di amore che Dio ha messo in noi, cioè vivendo male, per peccato, noi siamo senza Spirito. Quindi annunciando una parola che non tocca, non riguarda nessuno. Ma soprattutto quando noi, invece di insegnarla integralmente, così com'è, facciamo le interpretazioni al nostro reconsumo. Per cui ci serviamo della parola di Dio per dire altro, per fare altro. Nel piccolo facciamo un po' tutti, no? Quando chiudiamo gli occhi di fronte alle cose che Dio ci chiede, e dice ma questo non me lo chiede, o questo non è per me, ma io penso che sia solamente questo aspetto qua. E quindi prendiamo un aspetto, soprattutto per la carriera della relazione, quello che ci importa. E non ci importa che sia in contraddizione con tutto il resto. Ma poi c'è proprio l'errore dell'insegnamento. Cioè quando noi pronunciamo delle parole o le interpretiamo distorcendo i fatti, noi facciamo la stessa cosa che ha fatto il demonio al peccato originale con la dama di Dio e che ripete con Gesù. Guardate bene, le tentazioni vengono sempre dalla parola di Dio che viene usata per convincere, ma per portare fuori. E' vero, dice il serpente, dalla maniera che voi morirete se mangerete dell'albero di questo... Voi non morirete affatto. No, ci ha detto noi non moriremo solamente di questo albero qui, noi non possiamo mangiare. No, lui l'ha detto perché non vuole che siate come lui, e mette in dubbio. Così anche nell'eserito Gesù subisce le tentazioni, le tentature, mediante la stessa parola, ma deformata e cambiata, dicendo hai fame, tu hai il potere, di a queste pietre che diventino panna, oppure tu ti butti giù adesso dal pinnacro più alto del Tempio perché è scritto, verranno i tuoi angeli a sostenerti. Quindi fa un bel miracolo, buttati giù. Ma adesso non sto a spiegare dove consiste la tentazione, ma la cosa più importante è capire che la parola di Dio, se viene deformata, possiamo far dire esattamente il contrario di quello che significa. Perché noi tagliamo le parole e le montiamo e le smontiamo come vogliamo. È facile far dire a qualcuno qualche cosa che non ha mai detto. È vero che tu hai detto questo, tu non hai rispetto per nessuno. Dicci su allora, no? Sei tu il figlio di Dio? Perché se dici che sei figlio di Dio, noi ti cocefiggiamo. E Gesù risponde, sì, ma è scritto, voi siete dei, ed è scritto nel San. Allora, intendere il sabato, o figlio di Dio, in un certo modo, così, diventa già al tempo di Gesù il modo per poter accusare Gesù con la stessa parola che è la sua. Eh, ce ne vuole parecchio, no? Per dire, dunque, come noi, quando non siamo fedeli ad Angelo, quando non lo seguiamo integralmente, quando lo insegniamo in un modo distorto, oppure insegniamo in un modo parziale, in un modo tale che certe cose le facciamo, e non parliamo di, perché non bisogna parlarne, questo modo di fare, che è anche dentro la Chiesa, questo modo di fare, uccide dentro di noi la fede e distorce la fede in quello che gli altri devono vedere. Questo provoca questa sorta di essere né caldo né freddo. Sono legato più o meno alla Chiesa, ma in realtà non vivo dello Spirito di Cristo, perché l'ho ucciso in me, amando qualcun altro o qualcos'altro che è il Dio Mammo, il Dio del potere, il Dio del denaro, il Dio della malagloria, che è diverso in questo mondo, in questo modo, in cui l'altro, eccetera. Ma, se tutto questo, lo ripeto, è stato detto da Gesù, è proprio per ricondurre, no? A sé. E c'è un altro aspetto che passa un po'. Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono. Che vuol dire? Ci sono quelli che vinceranno questa battaglia, quelli che avvisati torneranno a me. E io non dirò, siccome hai sbagliato, tu non entrerai. Ma, siccome hai sbagliato, ti sarai avvenuto, così come ha fatto con Zaccheo. Io entrerò nel tuo cuore, tu cenerai con me, che vuol dire, è la cima delle nozze del ramienno. Tu sarai unito con me in modo perfetto e ti metterò nel trono a fianco a me con mio padre. Possiamo peccare tra tutti i peccati di questo mondo, ma se torniamo a lui, a lui, Gesù ci può perdonare a purificare, l'oro purificato dal fuoco per diventare ricco e abiti bianchi per vestiti. E poi dice, ma ci sono quelli che non hanno macchiato la loro veste. Cioè, ci sono quelli che non si sono uniti a quello che l'ha dato generale. Quest'oro sono già i vincitori. E quest'oro sono quelli che i santi, oggi c'è Santa Elisabetta l'Ungheria che sono i santi conosciuti. Poi ci sono i santi non conosciuti che sono quelli non meno grandi ma che Dio conosce nella nostra vita quotidiana. Quelli che, quando ricordiamo i nostri genitori, i nostri avi, che hanno conduto una vita santa nella semplicità, nel nascondimento. Quest'oro sono i vincitori. Ed è questo filo che continua nella Chiesa nascosta di coloro che mantengono purificate le proprie vesti del peccato. Cioè, non sono i perfetti, sono coloro che guardano sempre Dio e seguono l'anieno ovunque va in modo integrale. Quest'oro sono il filo della Chiesa che continua. E se in un certo momento della storia questo pare essere uno di quello, il filo sembra molto teno e nascosto, in realtà è come un cavo d'acciaio sul quale si tende la Chiesa intera, tutto il resto cagrà. Ma questo sarà il germoglio della continuità e di una moltiplicazione dei figli di Dio dopo che sarà passata la grande bufera e molti saranno tornati anche a convertirsi. Sono tornati a Gesù. Siamo dati Gesù Cristo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.